Buongiorno, benvenuti nella magica cornice del lago di Morà. Situata tra il canton Vaux e il canton di Friburgo, nella regione vitivinicola dei Tre Laghi, sorge la più piccola ma dinamica per l'azione di Svizzera, Bougi, 150 ettari coltivati da 24 vigneron, l'1% della produzione svizzera. Mi trovo da Crude L'Hospital, azienda che da 2013 sposa la filosofia biodinamica. In virtù di essa, Christian Vessat, l'enologo, produce un vino senza solfiti, Chasselat Alois. Colore oro, profumi floreali, intensi, in bocca vi emoziona per il suo equilibrio e il suo corpo, ben sostenuti da una freschezza cattivante, da Binara Macheran, formaggio tipico di Friburgo. Da Jennifer Badino, grazie. 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 Grazie.